Robert Douanot. Dieci foto per dieci storie. Liberazione di Parigi, l'FFI di Meunil-Montain. Riuscite a vederla l'ironia in questa foto? Eppure c'è. Non si vede perché non è quella voluta dall'autore, ma è l'ironia cosiddetta della sorte. Il giorno in cui fu scattata, Douanot stava passeggiando per le amate periferie parigine dalle parti di Meunil-Montain. Non erano giorni qualunque. Era l'estate del 44 e Parigi era appena stata liberata dai nazisti. Anche una banale passeggiata poteva rivelarsi tutt'altro che banale. Il passeggiatore, infatti, ma soprattutto la sua macchina fotografica, furono notati da un gruppo di partigiani freschi di vittoria. Ce la fai una foto? Douanot aveva con sé solo due rullini. Un ritratto di gruppo era l'ultima cosa che aveva voglia di fare, ma come poteva rifiutarsi? Anche lui, a suo modo, aveva partecipato alla resistenza, falsificando documenti grazie alle tecniche imparate alla scuola di litografia di Estienne. Di mala voglia, ma accettò e dispose gli uomini delle forces françaises de l'anterior davanti all'obiettivo. La posa è frontale, ha notato sua figlia, Francine de Rudier. Traspare la volontà dei soggetti di immortalare il momento. Si vede chiaramente chi sono gli artefici della liberazione di Parigi. E l'ironia? L'ironia della sorte, come ha rivelato Francine, è che molti anni dopo suo padre ha confessato che proprio questa foto, che non aveva nessuna intenzione di fare, in realtà era la migliore che avesse mai scattato. La intitolò Liberazione di Parigi, l'EFFI di Monilmontant. Liberazione di Parigi, l'EFFI di Monilmont, la